Via Colle di Mezzo oggi a Pescara, uomini e mezzi attivi per la riqualificazione della strada, soprattutto dei marciapiedi ammalorati. Sul posto il vice sindaco e assessore Adelchi Sulpizio, il quale ha sottolineato l'importanza della messa in sicurezza della zona, sia per i pedoni che per gli automobilisti. D'altronde si erano sentiti abbandonati dal comune di Pescara e residenti dei Colli per le strade dissestate e altre questioni. Abbiamo iniziato questa mattina alle 9, abbiamo iniziato in tarda mattinata per consentire l'afflusso dei veicoli anche alle scuole, che soprattutto nelle prime ore è sempre più importante. Adesso abbiamo iniziato e stiamo scarificando, quindi diciamo che entro domani sera, massimo dopo domani, sarà tutto completato. Facciamo questo primo pezzo di strada, le cui radici di Via Colle di Mezzo erano le radici delle piante, avevano cagionato numerosi danni all'arte stradale, quindi stiamo intervenendo, tutto prosegue con la massima tranquillità, non abbiamo interrotto il traffico, ormai operiamo con questi cantieri mobili che ci consentono di lavorare senza chiudere il traffico, quindi sia le opere di manutenzione cercando di arrecare meno fastidi possibili alla cittadinanza. Questo è solo il primo tratto della strada perché aggiunge, poi si proseguirà verso il cimitero. Sì, adesso facciamo la parte più danneggiata dell'arte stradale, da qui nei prossimi mesi invece faremo tutta l'arteria fino sopra il cimitero, quindi adesso interveniamo nella parte più ammalorata, l'anno scorso eravamo già intervenuti sui marciapiedi. E non finisce qui, precisa sul pizio. Ma guarda che anche già, diciamo, anche nei prossimi giorni Pescara avrà diversi cantieri, noi stiamo facendo in maniera che si opera in diverse zone, mai contestualmente, per evitare il proprio problema del traffico, quindi interveniamo più su più zone di Pescara in maniera tale articolato per non anche interrompere il traffico. Quindi interveremo su via Gran Sasso, interveremo nei prossimi giorni anche su via Faccone e Borsellino, abbiamo concluso la stessa settimana su via Prati, oggi siamo su via Colle di Mezzo. Dove per due settimane ci sarà il senso unico alternato.